Le sedi sono importanti perché sono un presidio anche del territorio sia per i servizi sia per l'attività sindacale, servizi che devono essere di qualità del padronato, del CAF insieme all'attività delle federazioni che con la loro presenza danno un importante contributo anche al territorio. Inaugurata la nuova sede CISL di Bibbiena, i locali si trovano in piazza Generale Sacconi 3435. Abbiamo deciso di ampliare la nostra struttura nel territorio, di investire in questo territorio bellissimo ma anche dalle tante opportunità e dalle tante aziende che stanno cercando un luogo dove svilupparsi. Hanno scelto il Casentino e noi abbiamo scelto il Casentino per implementare servizi e la qualità della nostra offerta, non solo per essere vicini a tutte le persone che hanno bisogno e necessità di essere ascoltate. Con la nuova sede vengono rafforzati i servizi CAF e soprattutto quelli del padronato INAS. La federazione pensionati svolgerà poi il prezioso lavoro di accoglienza e le categorie dei metalmeccanici, eddi di commercio e lavoratori del settore agricole e forestale alterneranno la loro presenza tutte le settimane, mentre l'ufficio vertenza e la di consum saranno presenti bimensilmente. La nostra è una vallata bellissima dal punto di vista naturalistico ma anche importante dal punto di vista produttivo, siamo uno dei distretti industriali principali italiani e quindi ci sono tanti lavoratori, tante famiglie e anche tanti anziani. E quindi è importante dare loro risposte e la CIS è in grado di farlo e quindi con questa nuova sede sarà maggiormente in grado di poter dare queste risposte.